Promo se io che svegli C'è uno dietro su Eh scale ma ero dietro la bomba Ah è lì, cazzo Ah c'è anche Non muore? Non mi prese Cazzo, cazzo Wow Cazzo 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 come c'è da dentro? amato c'è niente c'è niente? guarda guarda fai pronti fai pronti vende Gaccia ti sta aspettando il vendito fai brown 2 fai pronti non è fai pronti Sì 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 C'è qualcuno di rampinato C'è Sì ok la madonna una puttana